Centinaia e centinaia di quattro zampe di diverse razze, dimensioni, caratteri. Benvenuti all'esposizione nazionale canina Baveno a Laveno-Mombello, promossa dal gruppo cinofilo del VCO in collaborazione con quello di Laveno-Mombello sotto legida dell'Enci. Dopo i diversi premi per razze e categorie, l'elezione del Best in Show, il migliore cane in concorso. La scelta è caduta su un veterano, Stormi, un samoyedo di otto anni. Nonostante l'età, sa ancora farsi valere. Ha già un buon curriculum, mi immagino, il ragazzo. Sì, sì, tanti. Campione del mondo, campione di 14-15 campionati, campione austriaco, sloveno, montenegro, tedesco, di tutte le nazioni d'Europa. Campione del mondo, campione di 14-15 campionati,